benvenuti a questo breve video di presentazione del corso di diritto privato romano a distanza io sono enrico sciandrello il titolare del corso in questa breve presentazione volevo illustrare contenuti del corso e aspetti più tecnici legati alla modalità di erogazione a distanza per quanto riguarda il primo aspetto che riguarda non solo ovviamente il corso online ma tutti i corsi di diritto privato romano insisteremo in particolare sulle due caratteristiche principali del fenomeno giuridico legato all'esperienza romana in una prospettiva sincronica e in una diacronica per quanto riguarda quella sincronica andranno analizzati gli istituti privatistici che ci sono stati tramandati dalla scienza giuridica romana che nella storia dell'occidente ma non solo rappresenta il primo modello di sapere giuridico sistematico per quanto riguarda invece gli aspetti in chiave diacronica il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti strumenti utili alla comprensione del fenomeno giuridico nel suo divenire quindi anche in una prospettiva storico comparatistica la conoscenza di come si sono formati gli istituti di carattere privatistico potrà tornare utile per la comprensione di fenomeni giuridici attuali quindi non solo legati a un dato momento storico. Per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici legati alla modalità di erogazione a distanza in questo corso pensiamo di fornire strumenti utili ai discenti soprattutto con riguardo alla possibilità di godere di un affiancamento pressoché permanente lungo tutta la durata del corso di un tutor che attraverso attività predisposte sulla piattaforma Moodle consentirà agli studenti di essere seguiti passo passo nella preparazione dell'esame e al tempo stesso di avere segnalazioni precise circa gli argomenti su cui occorre insistere nella preparazione di questa materia. Altro strumento utile a questo fine sarà senz'altro l'erogazione di materiali intesi sia come lezioni audio video sia come documenti in formato PDF che consentiranno ai fruttori di questa didattica di conoscere su quali aspetti occorre maggiormente insistere al fine di avere un quadro più consapevole dell'esperienza giuridica romana. Saranno previsti altresì incontri in presenza, uno all'inizio del corso, uno a metà e infine un appello riservato a conclusione del corso a breve distanza dalla conclusione delle attività didattiche che saranno articolate in dieci settimane. Questo auspichiamo che possa essere uno strumento utile per consentire agli studenti di arrivare alla conclusione del corso di diritto privato romano a distanza con una preparazione adeguata e immediatamente spendibile in sede di esame. Quindi in considerazione di questi aspetti vi invito a frequentare il corso online e a provare questa nuova opportunità didattica. Grazie Grazie Grazie